Sto succedendo davvero Cosa amore? Niente sta succedendo davvero questo video E allora benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family E' arrivato ufficialmente quel giorno E' arrivato quel giorno E' arrivato quel giorno E' arrivato quel giorno E' arrivato quel giorno Oggi ragazzi che cosa farò? Allora dovete sapere che dalla prima gravidanza di Sara Ok quindi quando ancora prima che nascesse Martino Quando Martina è nella pancia Già all'epoca dicevamo Ah potrei provare i dolori del parto Perché c'è questa cosa che ti simula diciamo I dolori delle contrazioni Ok con questo macchinario Non l'avevo fatto Aspetta per chi non ci conoscesse E vede questo video per la prima volta Esatto Noi siamo due ragazzi che abbiamo Ti stiamo per spuotare Perché mi ha amore anche in tenis Esatto Abbiamo un bambino di 17 Abbiamo un bambino di 17 mesi E io in questo momento sono incinta del secondo Che nascerà intorno al 10 agosto Per questo stiamo facendo questo video Ho tergiversato per mesi Dicendo sì poi lo faccio Però adesso in vista del parto Devo farlo Quindi è arrivato il momento Ero messo anche a loro Di farlo Ho paura La tua sensazione più grande È solo la paura Ho paura Sì Non sei minimamente curioso Di soffrire no Assolutamente no Per sapere cosa io provo Sì un pochino sì Però ho paura che mi faccia male Abbiamo visto già altri video Tanta gente l'ha provato Compreso Feders Anche Feders E non hanno avuto una bella reazione Quindi ho paura di ciò Io però l'affronterò Stringerò E niente Stringerò i denti E niente ragazzi Sono poche chiacchiere da fare Fai vedere l'arnese del diavolo Allora Sto sudando freddo Sei? Sì Sei sicuro? Sì Siete pronti ragazzi? Sì signor capitano Non ha sentito bene? Sì signor capitano E allora Eccolo La bustina del diavolo La bustina del diavolo Qui dentro Dentro questa piccola Insignificante C'è un qualcosa Che ti farà provare Il momento Del mio primo parto Ma anche secondo Cioè nel senso Non è che sarà diverso Poi non cantare tanto Vittoria Fra un mese partorisci Questo è l'oggetto infernale per te Bene Ma devo dare un'occhiata Su come funziona Ok bene Ma facciamo Fai vedere cosa c'è dentro Allora All'interno Sì All'interno troviamo Gli elettrodi Ok Gli questi vanno posizionati sul corpo Un telecomando Una guida La guida Dei cavi Che non sono affatto Tranquillità Mi attacchia l'elettricità Sì Che bello Poi una pinza Bene E delle pile Bene Noi ci guardiamo un po' le guide Per non rischiare La mia morte prematura E torniamo da voi Ok ci siamo Abbiamo collegato il tutto La preparazione è finita C'ho paura E adesso Dobbiamo iniziare Il vero Parto Ecco il vero parto Il vero parto Non è che devo soffrire la mente Amore Allora Allora mi metterò Qua sul divano E Ecco C'ho l'ansia Basta Non dico più niente Io mi siedo Ah Amore Come va? Male Dai Dimmi Dimmi quello che senti Cosa provi Voglio iniziare E finire Tutta questa cosa Assolutamente Raga Questo è uno dei momenti Che stavo aspettando troppo Quindi capitevi Da tutta la vita Sì No Proprio capitemi Allora Iniziamo Alzando La maglia Ah che bella Lanzotta Lanzotta La padre Va bene Allora Mamme Godetevi Questo momento E fatelo provare Anche voi Ai vostri compagni Ok Allora Che dobbiamo fare? Ok Oddio Mi ha un po' di ansia Dai Amore Vai Ok Ok Adesso Andiamo Ad aprire Gli elettrodi E a staccarli E lo mettiamo Non lo voleva per niente pare E questo Lo mettiamo Qui Ok Ok Quando ti dico stop Stop Va bene Strappo tutto Spacco tutto Ti giuro Ti prende la scossa Ma va a cagare Quando ti dico stop Spegni tutto Stacca tutto Stacca i figli Riposati un attimo Vuoi un po' d'acqua? Non voglio niente Vuoi un po' davvero Zucco? Non voglio niente Allora No ferma Sto sudando Tocco la macchia Tocco la macchia Ok Basta Ok Allora Ferma Tu sai Mettila Mettila al minimo Ok Ok Amore ma io non è che sono capace A usare questo Quindi Non so come funziona Amore che bello Tu ridi Vai Ok Accendiamo solo Aspetta Ok vai Amore stai a tremare Si sto tremando Sto tremando Amore stai tremando Sono tutto sudato Sono tutto freddo Vado 3 2 Ti prego Mi non su Sulla faccia Ok Tutto pronto Elettrodi attaccati E posso iniziare Ufficialmente A schiacciare I pulsanti Partiamo da Da 1 Amore ok 3 Amore piano Mi metti ansia 3 2 1 3 2 1 Basta 3 Amore piano Ti prego Ti scongiuro 2 Ti scongiuro Se ti dico stop Ok Sei pronta amore No 3 2 Se ti dico stop Stop Amore 1 Sì Che senti Ok Quanto sei a 1 A 1 Ok Sento Un Un raggrizzimento Ok Passiamo a 2 Ok 1 non sento niente Ok 2 Ah basta Aspetta Ok Ok Sento Vibrare Ok Sento vibrare Ma ti stringe qualcosa? Un pochino Sì Ok 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 1 2 3 3 3 Ah Ferma Ah 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 Uh Uh È tipo una morsa Sì ma non è niente Se adesso io starei così al parto Magari Eh Ok Ok andiamo a 4 Ok andiamo a 4 4 Ah 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 ma devi soffrire Cioè no devi soffrire Come devi soffrire Ah 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 Calmate Ok 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 è assolutamente gestibile Ancora 4 Ok 5 Ok sopportabile Ok 5 sopportabile 6 Se fa già un po' più Stringe di più Cosa senti? Descrivi l'amore Sento due cose che vibrano E mi iniziano a stringere Aia Aia Sette Siamo a sette Otto Aia Mi sta pinzando Nove Aspetta, muo, 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 muo Piano, piano, piano Aia 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 Ferma Ferma, aspetta Ma questo non è un parto, amore Nove Aia Uff Dieci Dieci? Dieci Aia 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 Amore Questo non è un parto Ah, fa male questo Aia Fa male questo Quanto sei? Undici Aia Oddio Fermo, fermo, che fai? Oddio mio, oddio mio, oddio mio, mi inizia a fare male Quanto sei? 12 12 Aia Aia Amore mi fa male, mi fa male mi fa male, vai piano, vai piano, fermati Fermati, amore mi fa male, Martino, Martino Dai, com'è? Quanto sei? Aia, aia. Descrivi. Aia, mi fa male. Descrivi. Che cavolo devo descriverti? Va, va, va. Quanto sei? Quanto sei? 13. Aia, aia. More, respira. Respira che fra poco esce. Esce il bambino. Ma vai a cagare, va. Non mi esce niente. Mi esce la cacca. Aia, mi stringe fortissimo. Aia, quanto sei? 13, amore. Ah, adesso è 14. Oddio, ma ho sentito un salto, strozza. Sto facendo piccina. Ah, ma, 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 mi fa male. Mi fa male. Fermati, fermati. Aspetta. Oh, però. Aia, aia. Uff. Ma per quanto si può resistere così? Eh, beh, io ci... Ah, ah, mi pinza. Ah. Questo è il minimo del fatto. Mi pinza, mi pinza, mi pinza. Ragazzi, sta sudando, ve lo giuro. Mi pinza, mi pinza, mi pinza. Oddio, siamo a 15. Non so se, non so se, già facciamo. No, sì, amore, passiamo a 16. Ah, 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 ah. Amore, devi resistere, questo è un parto da donna. Spingi, fallo uscire. Sta uscendo? Zitta, stai zitta. Zitta, devi stare. Zitta. com'è? come stai amore? ma stai durando! zitta devi stare zitta! ah ecco adesso è lui che partorisce! Dio che male! fa male! cosa senti amore? mi fa male qua! dove? mi fa male! dove? mi fa male! dove amore? quanto sei? adesso 16 piano piano amore! ah ok! ah 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 questo è più forte! ah mo questo è più forte! quello di prima era meno forte! no 5! ah questo è più forte amore! ahiaia questo è più forte amore! no amore non è vero! ma è lo stesso! no è un'altra cosa! mi fa anche così! l'altro non mi faceva così! questa allora è proprio quella quella buona! ma cosa quella buona? quanto sei? adesso? quanto sei? 9! ahiaia! amore! mi fa male! 10! ah! ah questo è il parto! si! ah! qua si! quanto sei? eh sono 11! ah! oddio! ah ecco! ok! eccolo questo è il parto! si! 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 eh 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 Vai più indietro Vai più indietro 13 Ok Vado a 14 Sì poi basta Ok Oddio Sei rosso Sei bordeaux Che cosa senti amore Cosa senti Guarda i piedi tutti torti Passiamo a 16 Adesso è 16 Madonna fa così male Oddio mio Oddio mio fa male L'ultima l'ultima e basta L'ultima e basta L'ultima e basta Perché sei un vero uomo Basta 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 3 Ho capito Basta Una Fa male Ho capito Ho capito Ho capito Staccalo 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 L'ho staccato Ti ho messo 19 Cosa senti Cosa ti fa male Cos'è che ti fa male amore E questo non è niente Tu immagina Quello che hai passato adesso E' lo zero dello zero Di quanto io posso sentire dolore Cosa hai sentito Sei sudatissimo Cosa hai sentito Niente è caduto Questo è il post parto Dovete capirlo Oh Dio Com'è Cosa hai sentito Questo non è il parto Questo non è niente Hai capito Adesso capisci Un minimo Si immagino che sia ancora più forte Eh si Cento volte di più Eh si amore Ma c'erano dei momenti Che mi faceva male E poi se Se mi concentravo Respiravo E stavo tranquillo Lo sentivo meno Però appena Davi l'input Di quello in più Eh si Mi arrivava la botta di più Boom E lui mi faceva male Poi era continuo Capito Si si E si fermava E quindi Con il continuo là Oddio Ce l'ho fatta Ce l'hai fatta Ma non farò mai più Ma arrivava ancora di più Quello che ho già fatto Si Ma quanto arrivava? Tipo 25 Sì 19 Vabbè è stato forte Si certo Però abbastanza soglia del dolore Eh si Vero? Penso di avere abbastanza soglia del dolore Non credevo Si a parte quando c'è la febbra 36 e mezzo Vabbè Ma quella è tutta Oddio raga Oddio io ho studiato per te Amo Te lo giuro Oddio raga Non mi ricordo Voglio rivedere questo video Oddio So che devo fare la cacca Devo cagare Di andare in bagno ti ha smosso Devo cagare Si si ti ha smosso Anzi Raga Di le tue I tuoi pensieri I miei pensieri sono che Che ce l'ho fatta Quindi sto pensando solo cose positive Cioè che non lo devo più fare Ma ti ha fatto tanto male? Ha fatto tanto male Cioè mi ha fatto male Cioè mi ha fatto male Ehm Fino a 15 Era gestibile Quando sei arrivata dopo Sei superata E iniziava a essere Cioè nel senso Lo tenevo poco Lo tenevo poco Bene raga Vi saluto Vi saluto Da fare la cacca Cioè Quindi basta parlare Grazie a tutti Per aver guardato questo video E se volete Che Vale prova Ad arrivare a 25 Commentate qui sotto No no basta L'ho fatto una volta E mai più No l'ho fatto una volta E mai più L'ho provato I codici sconti Ho capito minimamente Cosa siano le contrazioni Minimamente Perché poi Non si può capire Del tutto Anche perché Era un aggegine Che abbiamo comprato su Amazon Quindi per quanto fosse professionale Magari ci sono degli addrezzi Ancora più professionali Negli studi Che ne so Ok Quindi però Me l'ha fatto un minimo capire Ok Un minimo Un minimo Cioè l'ho tenuto qualche minuto Sai che Pensa se fai un'ora di fila così Esatto Più forte Esatto Tre volte più forte Quello di più Madonna santa Va bene E tu parto Niente ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Della Space Family Oh sono sopravvissuto raga Spirate tutti gli commenti Grande Vale Sei il nostro eroe Bellissimo raga Un like Grande Vale Sei il nostro eroe Grazie Adesso vado a rivedermi le riprese Mamma mia Mamma mia Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Mi tocco la pancia per vedere se è tutto a posto Se sento ancora quella cosa Non è nato nessun bambino a posto Gli uomini non possono partorire Gli uomini non possono partorire Come è il nostro ero Grazie a tutti.